Sanremo è una città costiera dell'Italia nord-occidentale. Gli spazi verdi includono il parco di Villa Ormond, con un giardino giapponese, palme e un liveto antico. La cattedrale di San Siro, risalente al XII secolo, ha 12 campane all'interno della torre e un imponente crocifisso sull'altare. Ospitato in un elegante edificio Art Noveau, lo storico casino di Sanremo comprende un teatro. Nelle vicinanze, la chiesa di San Salvatore è caratterizzata da cinque cupole a cipolla. Il conduttore e direttore artistico è pronto a mettere mano a un festival di Sanremo che si configurerà in modo diverso rispetto a quello condotto da Amadeus negli ultimi cinque anni. Una kermes che innanzitutto durerà di meno rispetto a quelle passate, e che coinvolgerà ben venti artisti. Tra di loro spuntano grandi nomi del passato che non si vedevano sul palco dell'Ariston da moltissimo tempo. Al momento pare infatti, secondo quanto riporta Anticipazioni True.it, che parteciperanno alla kermes, tre note band del mondo della musica italiana, ogni anno al festival si vedono big del passato. Sono ritornati all'Ariston in questi anni i ricchi e poveri. La coppia formata da Paola e Chiara e tantissimi altri. Quest'anno sarebbe la volta degli 883, dei De Giornalisti e degli Zero Assoluto. Nei primi due casi non si tratterebbe solo di un grande ritorno sul palco dell'Ariston, ma anche di Reunion. Max Pezzali tornerebbe con la storica band così come anche Tommaso Paradiso che potrebbe portare i De Giornalisti a Sanremo. Insomma una sorpresa che i telespettatori apprezzerebbero tantissimo. Secondo le indiscrezioni, Sanremo 2025 vedrà anche il ritorno di altri nomi del passato come Povia, Albano e Nino D'Angelo. Lontani dall'Ariston, da molto tempo. Una bella notizia soprattutto per il cantante di Cellino San Marco, che sono anni che prova a tornare a Sanremo senza riuscirci.